Noi abbiamo votato nelle prime giornate di Consiglio per un emendamento che dava mano libera al Presidente in ordine alla scelta dei assessori esterni e interni, il limite è quello che devono esserci due donne in giunta e noi due donne in maggioranza elette non li abbiamo. Dobbiamo, credo, ragionare intorno a quella che è la questione dei gruppi per tutto quanto quello che è l'istituzione, ma quando parliamo di giunta e quando parliamo di politica il Presidente non potrà esimersi da ragionare anche con i partiti e in questo noi come PD avremo un'importanza maggiore rispetto agli altri. Ma lei nel momento in cui riconosce questo, che lo fanno in tanti, questo dover scegliere tra un'aggiunta tecnica e un'aggiunta politica, non pensa che la gente può anche accarezzare l'idea che avere un politico che sia anche tecnicamente preparato? E' meglio, se pensiamo alle chiacchiere che sono state fatte per il Ministro dell'Istruzione piuttosto che le cadute di stile di Poletti, insomma riportandole qui, avere persone capaci di poter essere rappresentative del popolo e nello stesso tempo competenti e preparate secondo me è meglio. E' ovvio però che il Presidente eletto dal popolo calabrese è Mario Gerardo Oliverio, c'è un'elezione diretta ed è a lui che spetta la scelta della sua giunta. Spero, anzi sono sicuro che lo faccia in maniera assolutamente libera da vincoli e pastrocchi o legacci di carattere amicale, lo dovrà fare invece tenendo conto di quello che è lo schieramento politico. E non perché debba lavorare con la mano libera lui per i prossimi tre anni, ma perché lo diceva bene lei, deve essere dato un esempio. E l'esempio è quello di riuscire a captare fra quelli che sono stati eletti dal popolo.